Buongiorno e bentrovati con l'edizione mattutina del TGL News, sospese dal Ministero ma libere. Sono le ultime novità nell'ambito dell'inchiesta sui presunti maltrattamenti alla scuola piacentina Vittorino da Feltre nei confronti di quattro bambini terza elementare che ha portato nei giorni scorsi all'arresto di due maestre in servizio nella struttura scolastica. In attesa dell'avvio della procedura che potrebbe portare a sanzioni disciplinari nei loro confronti, le due insegnanti abbandonano dunque gli arresti domiciliari. Non ha dato un risultato certo di identificazione l'autopsia eseguita ieri sul corpo ritrovato in un finile a Sarturano di Agazzano la settimana scorsa. Di certo c'è che la morte è stata causata per cause naturali e non violenta, anche se alcuni elementi lascerebbero supporre che si possa trattare dell'uomo scomparso nel giugno scorso da Fabiano di Borgonovo si renderà necessario l'esame del DNA per i cui esiti occorrerà aspettare almeno un mese. Mentre in Emilia Romagna si assiste ad un calo degli agriturismi a Piacenza il trend negativo non è presente, anzi dal 2014 l'incremento ogni anno è del 10% dopo un periodo di stabilità. Nel Piacentino ci sono infatti 275 aziende agricole iscritte all'albo degli operatori agrituristici della regione Emilia Romagna. A Valnure e Valtidone sono le zone dove gli agriturismi sono più numerosi. I ragazzi piacentini sanno bene cosa vogliono e sono disposti a sacrificarsi per guadagnarsi un futuro nell'impietoso mondo del lavoro. Sono emerse tantissime storie ed esperienze nel corso della puntata di fuori sacco condotta dal direttore di Tele Libertà Nicoletta Bracchi e dal giornalista Michele Rancati dedicata agli studenti lavoratori. Nel salotto della trasmissione si sono alternati studenti che conciliano gli studi all'università con il lavoro. Sul nostro sito liberta.it trovate i giorni e gli orari delle repliche. Per questa edizione è tutto, il prossimo appuntamento è alle 13.15 con il TGL ma l'informazione continua ovviamente sul nostro sito liberta.it grazie a tutti Grazie a tutti.